La festa del Sacro Cuore è la festa dei nostri collaboratori che sono l'elemento più importante di questo ospedale, la dedizione all'amalato attraverso i nostri operatori. Per quanto riguarda la tecnologia io credo che noi stiamo facendo quello che ci ha detto Don Calabria più di 70 anni fa. Io dico sempre che il più grande manager di questa struttura è stato Don Calabria, perché ha visto 70 anni fa quello che sta succedendo adesso. Lui ci ha lasciato un messaggio, un sms, mantenere l'ospedale all'altezza dei tempi e questo noi stiamo facendo. È un progetto, naturalmente qualche anno fa è stato deciso che questo ospedale doveva avere una vocazione, una trazione oncologica e quindi questa tecnologia non è un altro che la continuazione di un progetto che è iniziato parecchi anni fa e che non si concluderà come oggi ma che continuerà anche nei prossimi anni. Certamente l'umanizzazione caratterizza questo ospedale. Una recente indagine dell'Agenas ha posto questo ospedale nel Veneto al primo posto per umanizzazione e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che siamo nella linea giusta calabriana, quella di un'attenzione particolare al malato che deve essere dopo Dio il nostro vero padrone. Grazie. 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 Grazie.